stamattina ho fatto una visita molto rapida al mercatino delle pulci un mercatino delle pulci qua alle porte di Milano mi sono fermato molto poco è stata una visita molto veloce in effetti non ho trovato molte automobiline ne ho acquistate in tutto solo 6 sono tutte maggiorette però ritengo che alcuni di questi modellini meritino di essere presentati ovviamente sarà un video abbastanza rapido visto il numero il piccolo numero di automobiline da da presentare però spero che possa risultare in ogni caso interessante cominciamo a vederle questa è la prima mageret camping car numero 278 prodotta tra il 1991 e il 2000 e questa sul sito della fandom non sono riuscito a capire di che anno sia questa diciamo con colore con questo colore rosa shocking quella verde shocking del 1991 questo non l'ho trovata comunque è danneggiata qua non è chiaramente in uno stato perfetto è danneggiata qua e l'ho presa perché potrebbe essere interessante cercare di ricostruire questo pannello in questo modo perché il resto dell'automobilina è abbastanza solida e ancora funzionale questa è la Renault Clio la numero 207 prodotta tra il 1991 e il 1999 e questa in particolare blu è la versione prodotta tra il 1995 e il 1998 è una macchina che non non avevo in precedenza quindi sono abbastanza contento di averla trovata anche se non è vecchissima non è in cattivo in cattivo stato l'unico non è neanche in buono stato onestamente però insomma non è pessima l'unico problema è che manca uno dei due fari qua davanti però vediamo se si può in qualche modo aggiustarlo questa è la Toyota Land Cruiser J40 prodotta tra il 1981 e il 1983 la prima versione dell'81 era quella completamente grigio metallizzata questa onestamente con queste decal con scritto Rally 80 Toyota onestamente non ho non so di quale anno sia almeno sul sito della fandom non ho trovato nessuna informazione a riguardo la cosa interessante è che è presente questo sportellino di plastica che in genere in questi modellini quando si trova al mercato delle pulci è sempre mancante è un'auto molto solida molto pesante direi anche con dei dettagli discreti questo è un altro modellino interessante è il mercedes benz ng garbage truck numero 218 e questo è stato prodotto tra il 1978 e il 1986 questo verde con questo adesivo con l'ippopotamo e la versione è prodotta tra l'85 e l'86 quindi una delle ultime versioni non è in buono stato ma non è neanche in cattivo stato la cosa positiva di questo modellino è che innanzitutto è presente la parte diciamo la copertura posteriore e spesso si trova il modellino soltanto il camioncino senza la parte sulla parte in plastica grigia e l'altra cosa interessante è che anche la porta anche se è rotta è presente però può essere aggiustata deve essere aggiustato questo perno qua e deve essere ricostruito anche questo pezzettino qua in basso però comunque è abbastanza raro trovarlo non ho trovati mai tanti di questi modelli di di track della mercedes almeno questa versione il garbage truck e quindi sono abbastanza contento di averlo trovato in queste condizioni anche se non sono perfette questo è un altro modellino interessante è il british bus allora io ho cercato sul sito della fandom delle informazioni su questo modellino non ne ho trovate molte non so almeno dalla base è scritto il numero 259 però sembra sovraimpresso alla base originale in realtà su internet ho trovato che dovrebbe essere il numero 286 anche se non è menzionato nel sito della fandom quindi onestamente non so quando sia stato prodotto nello specifico le condizioni non sono perfette la vernice è tutta mancante sono spariti gli stickers ovviamente però per il resto è tutto giusto nel senso che è solido non ci sono danni tutti i trasparenti sono presenti non sono fratturati la parte sopra il piano superiore è in plastica ed è in ancora in buono stato come anche le ruote e quindi insomma è un modellino interessante anche per un per un restauro l'ultimo modellino che vi voglio presentare è la ford thunderbird la numero 217 questa è stata prodotta tra il 1986 e il 1995 e questa rossa è la versione la prima il first release prodotto e messo sul mercato tra il 1986 e il 1988 quindi insomma è una macchinina pur sempre di 30 35 anni fa io ne avevo già altre di ford thunderbird numero 217 della majorette anche rossa l'avevo però questa l'ho comprata l'ho pagata un euro l'ho comprata perché non ha praticamente danni anche la base è perfettamente lucida le ruote sono praticamente perfette anche la cromatura è a posto i trasparenti sono perfetti qualche lievissimo graffio quello inevitabile le parti in plastica sono tutte giuste la vernice soprattutto non ha neanche una scrupolatura forse qualche cosa qua dove si apre il cofano ma quello è francamente inevitabile è impossibile che non sia danneggiata neanche lì il gancio c'è la macchinina è praticamente da collezioni io l'ho pagata un euro questo modellino però un euro sicuramente una maggiore di 30 35 anni fa in condizioni perfette ne vale sicuramente ne valsa sicuramente la pena per l'altro per l'altro Grazie a tutti.